In visita alla Regione Calabria, intanto le regionali sono alle porte, ma si tratta anche di una vista istituzionale. Mentre a sinistra litigano e partoriscono 18 candidati, noi ci occupiamo di lavoro, di salute, di turismo, di bellezza, di giovani e di futuro. Quindi la presenza del ministro del turismo, del governo Draghi, ministro leghista, ci significa che la Calabria può e deve tornare a essere terra d'attrazione per italiani e stranieri perché abbiamo il mare più bello del mondo. Significa dover fare un piano spiaggia, significa potenziare i trasporti dalla Statale 106, gli aeroporti da Mezzi e di Reggio, significa lavorare sul porto di Gioia Tauro, significa elettrificare la ferrovia sulla dorsale ionica. Abbiamo tante idee, cinque anni per renderle concrete, quindi io come segretario della Lega poi praticamente tutte le settimane tornerò, non solo fino a ottobre, perché è troppo facile venire solo un mese dal voto. Siamo venuti prima e ci veremo dopo. Il presidente Draghi ha proposto la finale degli europei qui a Roma, ma lui fa già risposto no, visto che abbiamo anche il ministro del turismo, che idea è secondo voi? A me non dispiacerebbe, a me interessa che arrivi l'Italia in finale, poi dove giocano è secondario, avere una finale a Roma sarebbe bello, auspicando che non ci sia il segretario del PD che impone ai giocatori e ai spettatori di inginocchiarsi mentre passeggiano per strada, perché penso che la politica abbia cose più importanti di preoccuparsi. La vera linea di discontinuità con il governo Conte e il BIS in termini di turismo, poi anche una domanda che faccio sia al ministro che al segretario, naturalmente per il sud Italia e per la Calabria in particolare. Non ci sarebbe turismo se non ci fosse la salute, se avessimo aspettato Conte, Arcuri e Casalino per il piano vaccinale saremmo ancora indietro di non so quanti mesi, quindi fortunatamente una Calabria in salute è una Calabria pronta a ospitare turisti che portano ricchezza, non turisti che sbarcano con barchini e balconi, quindi anche da questo punto di vista mi sembra che fortunatamente sia cambiato il mondo. Sì, è così, con le vaccinazioni ormai più della metà della popolazione italiana ha ricevuto la prima dose, tantissimi hanno già ricevuto il messaggino per le pratiche del cosiddetto lascia passare e quindi la stagione riparte e riparte la grande, poi ricordiamo sempre che il turismo è il settore che occupa più giovani e più donne, quindi per il sud è veramente la vanna. Cosa deve fare la Calabria per investire davvero sul turismo? Deve credere di più in se stessa, in Calabria c'è tutto, c'è il mare, c'è la montagna, ci sono i boschi, ci sono tanti boschi in Calabria quanto in Lombardia per dare l'idea. Oggi eravamo stamattina con il presidente del parco del Colino e raccontava di questa ciclovia, la più lunga che abbiamo in Italia, quindi le potenzialità sono enormi, dobbiamo crederci e dobbiamo fare tanta tanta promozione. Intanto per le discoteche, ministro, qual è la situazione? Può essere una buccia di banana? No, guardi, l'amico Federico Pedini Amati, ministro di San Marino, ha fatto un esperimento proprio in questo fine settimana, 2000 persone, è andato via liscio come l'olio, quindi è la dimostrazione che si può aprire in sicurezza, basta rispettare i protocolli. Perché il turismo in Calabria è sempre indicato come un volano ma in realtà non riesce a decollare come in altre regioni. Avete una ricetta voi della Lega? La ricetta è di lavorare con i territori, con le regioni, con gli operatori. Proprio stamattina mi ha fatto un convegno tecnico su questo argomento, tanta organizzazione e tanta buona volontà. La novità è che c'è un ministero del turismo, cosa che prima non c'era, quindi è più facile organizzarsi. Mancava organizzazione a livello nazionale, però pagano soprattutto i territori più deboli, la mancanza di organizzazione. È un peccato perché la Calabria ha enorme potenzialità, però guardiamo il bicchiere mezzo pieno, può fare un grande salto. Poi portiamo in dote, e mi taccio, quello che la Lega con Spirli ha già fatto. A proposito del turismo in Calabria oggi non siamo a dire faremo, perché è un milione e mezzo per decine e decine di città. Per riqualificare borghi e centri storici significa essere più attrattivi, significa valorizzare le bellezze della Calabria. Ieri sono stato un piccolo esempio nel Comune di Condofuri dove il sindaco mi ha ringraziato, io me l'ho pure dimenticato, perché da ministro dell'interno abbiamo stanziato 4 milioni e mezzo di euro per riqualificare il centro storico di quello che è nel mondo, che è riconosciuta come la capitale del Bergamotto. E quindi la differenza fra la Lega e tanti altri è che noi veniamo a raccontare quello che abbiamo già fatto, non solo quello che faremo. Presidente, oggi è stato presentato il candidato Occhiuto, ma sino a ottobre ci sarà lei come presidente Facente Funzioni. Quali progetti, quale cose vorrà realizzare prima di lasciare il ruolo dei presidenti e prendere forse quello di vice? Io continuerò a portare avanti i progetti che abbiamo già messo sul tavolo, che abbiamo già messo in campo, per cui continueremo questa nostra battaglia per far sì che il debito della sanità calabrese venga stralciato e quindi si crei finalmente un doppio binario, c'è uno gestito dal governo a copertura di quel debito che dovrà essere comunque rivisto fino a cercare dei numeri veri che fino a oggi non ci sono stati, ma dall'altra parte invece la necessità e l'urgenza di dare ai calabresi una sanità vera, una sanità che farà smettere agli scafisti della sanità di portare i pazienti, gli ammalati calabresi in altre regioni, se non addirittura in altri stati d'Europa e del mondo. Noi abbiamo veramente l'urgenza di far decollare la nostra sanità perché i sanitari li abbiamo e le strutture devono invece cominciare a diventare più umane, veramente credibili perché le nostre strutture sono assolutamente obsolete. E degli ultimi giorni di qualche giorno fa la decisione finalmente dell'Università di Germaneto di fare adeguare tutta una serie di preparazioni di alcuni medici per garantire ad una bimba della provincia di Reggio Calabria delle cure alle quali si deve sottoporre. Lei è uno dei sette casi della sua malattia purtroppo genetica nel mondo e la famiglia, che peraltro è una famiglia di operai, si doveva spostare a Roma ogni 15-20 giorni più o meno per farle inoculare un farmaco perché qui non c'era la possibilità di farlo. Da questa settimana la famiglia mi ha comunicato proprio in queste ultime ore che grazie ad un intervento che credo sia più umano che istituzionale ed era dovuto proprio per buon senso, finalmente questa famiglia non si dovrà più spostare, non dovrà più portare la bambina fuori. Continueremo con il nostro piano di intervento sul porto di Gioia Tauro e sul retroporto con la politica che stiamo attivando proprio per la difesa del Corap che invece altre manine avevano tentato di trasportare finalmente ad una liquidazione che non era assolutamente giustificata. Lavoreremo ancora per gli aeroporti perché è importante salvare i nostri aeroporti da una crisi che li ha colpiti. Bisogna stare sul pezzo, bisogna stare sul pezzo giorno dopo giorno perché le cose da fare sono tante, continueremo con la campagna vaccinale, abbiamo raggiunto dei numeri che oggi finalmente fanno accompagnare la Calabria alle 19 sorelle mentre eravamo fanalino di coda e quindi insomma tanto lavoro c'è da fare, lo faremo fino all'ultimo giorno fino a quando non arriverà il nuovo Presidente ad insediarsi. Presidente, tornando ai temi dell'economia, ieri Banchi Italia ha tracciato un quadro piuttosto di inquieto solo per aver preso lo dell'economia.